Da parte di Giuseppe che chiede, fratello Giuseppe una domanda, come concetto di Trinità è corretto dire che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono tre manifestazioni dello stesso e unico Dio? Beh abbiamo parlato di questo nei messaggi, quando abbiamo parlato della Trinità che è una parola che non esiste nella Bibbia e nella Chiesa dei primi secoli non c'erano mai nessuna lite sulla Trinità come ci sono oggi perché la Trinità non esiste, c'è solo un Dio quindi quello che tu chiedi sia corretto secondo me di parlare che c'è Dio Padre che si manifesta attraverso Lui Padre, Figlio e Spirito. Quindi lui dice tre manifestazioni dello stesso e unico Dio, io credo assolutamente di sì, è sempre l'unico Dio che si manifesta in modo identico perché è onnipresente, è onnipresente nel Padre e nel Figlio e dello Spirito Santo. Ci siamo? Sì, sai l'altro giorno leggevo una scrittura su questo che mi è piaciuta tanto dove ci sono due scritture nella Bibbia, c'è un passaggio dove vediamo esattamente Dio, un unico Dio manifestato in tre modi diversi. Vediamo in Matteo 3, versi 16 e 17 Dice Gesù appena fu battezzato salì fuori dall'acqua ed ecco i cieli si aprirono ed egli vide lo Spirito Santo scendere come una colomba e una voce dal cielo che disse questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Qui vediamo Dio Padre, la voce che parla dal cielo, vediamo il figlio Gesù che viene battezzato e vediamo lo Spirito Santo sotto forma di colomba. Un Dio però manifestato in tre forme diverse. Sì, però non è Trinità. No, non è Trinità. Non è Trinità perché andiamo ai Fiesini 4, guarda, la Bibbia non parla mai di Trinità. Questo è stato Matteo 3, versi 16 e 17 Sì, Gesù ha detto in Giovanni 14 Chi ha visto me ha visto il Padre. Poi dice in Giovanni 10, 30 dice Io e il Padre siamo uno. Non dice mai siamo due, siamo uno. Attenzione però di distinguere. Cioè, un conto è se Gesù sta parlando dello Spirito, un conto è se sta parlando della carne o in modo tangibile. È logico che Gesù, figlio dell'uomo, è una persona e Dio in cielo è un'altra persona. E sono uno in che modo? E io continuo a ripeterlo. Sono uno nello Spirito, non sono mai due, non sono mai tre, è sempre uno. Si manifesta nel figlio e nello Spirito Santo. Chi si manifesta? Dio, chi ha visto me, ha visto il Padre. Quindi è la stessa persona. Allora, è come c'è una corrente elettrica nella casa, si manifesta attraverso due lampadine. Allora sono due correnti diverse. No, non sono due correnti diverse. È una corrente. E se sono tre lampadine, la trinità non è, non sono come dicono i testi come diceva nel principio della parola, la parola era un Dio. Come un Dio? Un altro Dio. E quanti Dei ci sono? E c'è Dio e poi c'è un altro Dio, Gesù. Il testi come diceva è una dottrina pagana al 101%. Allora, hai trovato i fiesini quattro? Sì. Quattro sei, al sei. Vi è un corpo solo. Dice uno o tre? Uno, uno. Uno. Vi è un corpo solo e un solo spirito. Tre o uno? Uno, uno. Uno. Un solo spirito. Controlliamo, eh. Comeppure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore. Allora, non tre. No. Una sola fede. Non tre. Un solo battesimo. Non, no. Eh, 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 qui, 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 che cascalassimo. Almeno due, almeno due. Quello in acqua e quello nello Spirito Santo. E dove è scritto questa frottola? Non lo so, ma così dicono. Il battesimo è sempre stato, anche prima dello Spirito Santo che non era ancora venuto, quanti ce n'erano? Uno. È sempre stato uno, o acqua o spirito. Il battesimo di fuoco. Non smetti fuoco e acqua, cosa produci? Vapore. Quindi è sempre uno. Prima o poi l'acqua sparisce, no? Quindi oggi queste religioni che fanno tante storie che... Frate Giuseppe, non credo al batteso dell'acqua. Non ci credo perché è arrivata la Pentecoste. Vogliamo svegliarci, per cortesia. Questi spingono il batteso dell'acqua perché il batteso dell'acqua dipende dal pastore. Quindi dipende da me se io ti battezzo a te. E fin quando non diventi una brava Pentecostale, una brava Cattolica, a te non ti battezzo. Oh grazie. Decido io. Ah, non Dio? No, io. Perché io sono l'uomo di Dio, sono il grande profeta protestante o cattolico. Decido io. Hai capito anche in chi ha a quitrino che si trova la Chiesa? Il batteso dell'acqua, questi pastorelli delle Chiese, lo spingono perché questo gli dà potere e diventano Dio. Decido io. Ma io voglio salvarmi. E le fate battezzare nell'acqua e che sia acqua buona. Magari possibilmente acqua Recoaro, San Pellegrino, Boari, una cosa diciamo... Capito? Perrier. Sai cosa è Perrier? È una marca di acqua francese. Allora, decidendo loro se, come, quando, se gli gira, se desiderano, se sono di buon umore... Vabbè, a te ti battezziamo, l'altro no. Perché non è ancora un buon pentecostale. Niente, aspetta, tu devi diventare un buon pentecostale. Oh, pardon, voglio dire un buon cristiano, naturalmente. Hai capito? Ecco perché spingono l'acqua. L'acqua... Sì, il battesano è l'acqua e i discepoli. Ma non mica era un comandamento. Gesù non ha mai comandato di battezzare nell'acqua. Sicuramente non dopo la Pentecoste. Prima i suoi discepoli battezzavano. Non lui. Insomma, questo non entra nella cocuzza. Perché il battesano nell'acqua dà un sacco di potere ai pastori nelle chiese. Ti controllano. Tu sei stato battezzato nella mia chiesa. La mia chiesa l'ho comprata io, società per azione. Andiamo per cortesia. Allora, verso 5 dice... Hai capito che è tutti? Quindi dice... Cos'è che dice? Un signore, verso 5. Una fede, un battesimo, un Dio, un padre. Uno, 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 uno. Dove sono tre? Battesimi. E sta Bibbia è sbagliata. Non c'è scritto quello dell'acqua. Butta via sta Bibbia. Questa è la religione. I religiaci arrivano. Dice c'è un battesimo. Ma credi a me. Vuole dire due? Eh sì. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo.